Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, mercoledì 13 luglio. Questa è Fano TV sul canale 17 del Digitale Terrestre, visibile in tutta la regione Marche e anche sui vostri telefonini, computer, tablet, insomma tutto ciò che è tecnologia e ha una connessione a internet. Allora è possibile seguirci on demand quando volete. Iniziamo questa giornata come sempre andando a fare gli auguri di buono nomastico per esempio oggi a chi si chiama Enrico perché oggi è Sant'Enrico. Il sole è sorto alle 5.38 e tramonterà questa sera alle 20.50. Il sito della protezione civile delle Marche per oggi prevede un cambiamento del tempo. Come vedete ci sono i temporali, i temporali soprattutto dal pomeriggio con rovesci sparsi da prima lungo la fascia colinare e montana, poi in estensione verso la fascia costiera in serata. Questa è la previsione della protezione civile delle Marche. Le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi e stazionarie nei valori massimi. Domani invece avremo inottata la possibilità ancora di isolati rovesci o temporali ma in rapido esaurimento. Per la giornata di giovedì non sono previste precipitazioni secondo la protezione civile delle Marche però insomma il cielo sarà parzialmente nuvoloso per questo transito di nuvole da monte verso costa. Però c'è tempo instabile come vedete per il fine settimana, per la giornata di lunedì, per la persistenza di questa struttura depressionaria in ingresso nella serata di oggi. Insomma poi tornerà il tempo stabile e soleggiato ma questa settimana come già avevamo detto insomma sarà un po' caratterizzata da questo tempo incerto con piogge che si alterneranno al sole. Rinfrescheranno? Non lo sappiamo. Serviranno per la siccità? Speriamo, questo sì. L'importante è che non faccia quei temporali estivi come si dice che fanno solo danni, fanno più danni che altro ma di questo purtroppo noi non possiamo dirvi nulla, anticiparvi nulla, speriamo soltanto. Intanto non so se è ripristinato il collegamento eccolo qua con il nostro bagnino che per questa settimana ci terrà compagnia. Siamo a Torrette, giusto? Siamo ai bagni Arzul, giusto. Giustissimo ecco allora siamo, c'è il sole sì questa mattina vedo un... È un po' velato questa mattina come ho detto te Marco sì. È un po' velato infatti mi sembrava di aver visto una luce un po' strana. Allora Cristiano, buongiorno Cristiano Boni, titolare dei bagni Arzul, la giornata di oggi come sarà? Eh speriamo positiva. Le condizioni marine sono buone. Adesso questa mattina ancora come vedete c'è molta bassa marea come sempre e poi vediamo se cambia nel pomeriggio. Come hai detto tu ci sono un po' di temporali in giro quindi speriamo che non arrivi anche da noi. Allora siamo un po' diciamo Cristiano del cuore di questa estate possiamo dire insomma voi avete turisti avete gente che viene da fuori questa mattina leggeremo tra poco sul giornale mancano gli ombrelloni ce ne sono duemila mancano duemila ombrelloni in giro a Pesaro per esempio c'è questa polemica lì invece? No no qua lo stesso comunque riempiamo quando è il weekend di persone ce ne sono tante quindi se riusciamo ad aumentare quelle che sono le nostre capiente grazie anche a tutto quello che sta succedendo ben venga quindi dobbiamo cercare di dare il servizio massimo per quei pochi mesi che le persone vengono a rilassarsi un pochino da noi. Molto bene allora intanto grazie per questo collegamento ci vediamo domani mattina un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti. Grazie a voi buona giornata a tutti ciao Buona giornata Allora vediamo subito le prime pagine cominciamo dal Corriere Adriatico del segno di Pesaro la foto non poteva che essere questa mattina per il Mancio l'allenatore della Nazionale che come tutti sanno è di Iesi nel segno di Mancini orgoglio delle Marche per il Citi Iesino le parole del padre e degli amici di sempre. Gioia esplosiva invece alla palla di Pomodoro scalano questo monumento per dirigere i cori e gli sfottò. Poi sotto invece guerra degli ombrelloni come dicevamo appunto poco fa ormai non bastano più e scontro preaperto tra albergatore e bagnini con il distanziamento le Marche mancano circa 2000. E poi le Marche sono anche in un video di Gianni Morandi e Giovanotti il brano in questione è Allegria di Gianni Morandi che è stato girato al Motor Ranch di Valentino Rossi. Questa invece è la prima pagina del resto del carino la notte dell'orgoglio Italia campione folle nelle piazze tanti si tuffano nelle fontane casi di vandalismo. Covid invece ecco il tampone leccalecca l'ospedale Marche Nord avvia per i pazienti e lo screening è meno invasivo con i bastoncini che si tengono in bocca. Poi di spalla vedete la tentazione di Claudio Gabellini quello di diventare sindaco candidarsi a sindaco di Fano fare i protagonisti dice lui è sempre bello. E poi sotto l'analisi del sindacato Will la pandemia ha sottratto il 20% ai salari degli operai. Allora due pagine sono dedicate dal Corriere Adriatico a Mancini ma ci sono ancora oggi tante fotografie che noi come ieri salteremo ovviamente perché vi abbiamo anche fatto vedere insomma un po' i festeggiamenti quelli che sono stati festeggiamenti anche nell'edizione del telegiornale che vedrete potrete vedere ancora oggi in palinsesto nella nostra emittente. Allora limitiamoci per esempio a vedere questa pagina del Corriere Adriatico dove parlano i genitori forse più il papà di Roberto Mancini. Il papà si chiama Aldo la mamma Marianna insomma da Villa Fabbro a Iesi il papà racconta vedi tutte le sue gare cioè le gare di Mancini in azzurro a Stoccarda chiuse da giocatore. Ora ha dimostrato il suo valore così il mio Roberto ha chiuso quel cerchio rimasto aperto nel 1994. Intanto Roberto Mancini lo vedete qui in questa fotografia mentre esce ieri dal Quirinale a Roma dove è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella. Dice invece il sottosegretario Vezzali non è stato un sogno ed ora puntiamo a Tokyo per le Olimpiadi. Poi Sensi, Stefano Sensi uscito dai 26 azzurri all'ultimo taglio per un maledetto risentimento muscolare che ha detto sapevo che avremmo fatto grandi cose. L'altra pagina invece del Corriere Adriatico si parla sempre invece degli amici di là i genitori qua invece gli amici che vengono definiti come cerchio magico cioè quella stretta cerchia di amici che anche quando si tratta di un campione, di un personaggio importante come appunto l'allenatore di una nazionale di calcio comunque sono fondamentali. E se si va a vedere nella storia di Mancini questi amici sono amici di infanzia ovviamente persone che stanno e seguono le vicende in questo caso del CT della Nazionale. Se vinceva, dicono adesso gli amici di Roberto, se vinceva voleva andare in bicicletta fino a Santiago de Compostela, il chiodo fisso prima degli europei. Da Sassaroli a Zanotti il cerchio magico rivela i segreti del CT campione. E andiamo adesso invece a vedere l'altra pagina del Corriere Adriatico. Turismo, Acquaroli gode la chiave, il brand cioè il marchio Mancini, noi con lui riscatto per due. Ora in questo articolo si sottolinea soprattutto come lo spot della regione Marche andata in onda sia sulla RAI che sulle reti Sky sia stato visto da 263 milioni di persone durante le gare dell'Italia. Il governatore dice è lui l'asso nella manica, riferendosi a Mancini, le altre regioni ce lo invidiano e non finisce qui. Ora chiaramente la stima di marketing, pianificazione da 700 mila euro con moltiplicatore esponenziale, tecnicamente gli spot che la regione Marche ha acquistato presso la RAI per il pacchetto europeo ci sono costati circa 400 mila euro, poco meno di quelli programmati nel palinsesto della rete titolare dei diritti satellitari, ovvero Sky Sport intorno ai 300 mila euro. Quindi 400 per la RAI, 300 mila euro per Sky, un totale di 700 mila euro. Chiaramente sì, tutto questo ha portato sicuramente, porterà dei benefici a rovinare la festa. Ci sono invece le notizie che sono apparse nella giornata di ieri dove le Marche venivano collocate tra le quattro regioni a rischio Covid, quindi con la possibilità di tornare in zona gialla. Capite che ancora la zona gialla è molto lontana, ma soltanto mettere il nome delle Marche in questa lista di possibili regioni a rischio, insomma, rovina un po' tutta la festa o comunque fa sì che, vanifica perlomeno tutto il lavoro che gli spot hanno fatto, magari invogliando qualcuno a visitare la nostra regione. Da una parte la voglia di venire, dall'altra la impossibilità di farlo per non rischiare appunto con il Covid. Ed è per questo che ieri Acquaroli si è affrettato un po' stizzito, insomma, dire, insomma, prima di collocarci in fascia gialla, state calmi, qui non è che se uno passa nelle Marche prende il Covid. Siamo ancora in una situazione tranquilla. Speriamo, e qui adesso ovviamente questo non ce lo diciamo più apertamente, ma tutti abbiamo le dita incrociate, e speriamo che questi festeggiamenti, questi festeggiamenti che ci sono stati in questi giorni, in queste notti, non portino a Focolai o quant'altro, perché come avevo visto a San Benedetto è bastata una festa in uno chalet, in spiaggia, per creare tutta questa confusione, far aumentare i contagi, eccetera, eccetera. Ora, moltiplicate quella festa in una festa nazionale in tutta Italia e vediamo nei prossimi giorni se ci saranno conseguenze. Gli assembramenti era impossibile evitarli, non tutti hanno usato la mascherina, anzi tutt'altro, per cui speriamo in Dio. Allora, folla in delirio fino all'alba per il Mancio. Questa è la pagina di Iesi del Corriere Adriatico. Iesi prepara, tra l'altro, anche la festa del ringraziamento e il sindaco Baci dice, oltre al risultato sportivo, Roberto è uno straordinario testimonial della sua città e delle Marche. La cosa che colpisce di più, dice invece Don Federico Rango, che è un giovane vice parroco del quartiere Prato, dove Roberto Mancini è nato e ha iniziato praticamente a giocare nell'Aurora. In quella parrocchia ci si è visti davanti allo schermo, dopo aver anticipato anche la messa. E Don Federico dice, è stato bello vedere soprattutto tanti bambini d'origine straniera del Rione che giocano qui al campetto e fare il tifo per l'Italia e dire, orgogliosi, siamo il paese di Mancini. Il calcio tre anni fa, dice il sindaco, era finito, lui ha trovato la chiave giusta e si è circondato di amici e ha fatto un lavoro, davvero un grande lavoro. Intanto ha fatto il giro dell'Italia, dei social, queste fotografie, queste immagini, ve le abbiamo fatte vedere anche noi ieri sera, questo segnale stradale che è stato sradicato, divelto a Iesi. Il segnale stradale indicava la via, via Inghilterra. Adesso qui si legge male, ma a Iesi c'è una via che si chiama via Inghilterra. I tifosi italiani l'hanno preso, questo cartello, e gli hanno fatto fare il giro del paese. E queste foto hanno fatto invece il giro del web. Allora, parlando invece del Covid, c'è questa notizia che arriva da Pesaro, dall'azienda ospedaliera Marche Nord, che prevede da oggi test salivari per lo screen dei pazienti. Ora, tutti quelli che si sono sottoposti al test, chiaramente hanno provato l'ebbrezza di quel cotton fioc un po' più lungo nel naso. Ora, da adesso in poi, addio a questo stick naso-gola, perché arriverà questo lecca-lecca, chiamiamolo così, anche se, solo per dare l'idea, insomma, sono meno invasivi, ma sono meno invasivi, perché, sa, nel naso dà un po' fastidio, con qualcuno, però sono molto affidabili. Pare, insomma, siano affidabili al 98%, quindi un bel risultato. Da domani, da domani, non da oggi, da domani, l'azienda ospedaliere cittadina, dunque, darà inizio a questa nuova modalità di screening dei suoi pazienti, però sarà solo per quelli che devono essere ricoverati, non sarà per i sanitari, almeno per il momento, e questa cosa, questo nuovo modo di fare i test, varrà sia per l'ospedale San Salvatore di Pesaro, ma anche per l'ospedale Santa Croce di Fano. Dunque, ci sarà una breve formazione per gli operatori che dovranno fare questo stick, e quindi, poi, alla fine, insomma, si partirà, e speriamo che questa cosa possa essere impiegata un po' dappertutto, insomma. I test, dice il direttore generale Maria Capalbo, saranno somministrati ai pazienti, che devono essere ricoverati, e quelli che sono già in carico, quindi che sono già lì in ospedale, e che ogni tre giorni devono sottoporsi a screening. Intanto, invece, a proposito dei tracciamenti, sempre dal resto del caliero di oggi, preoccupano i numeri delle marche, come vi dicevo poco fa. La provincia di Macerata ha il tasso per 100.000 abitanti più basso, e infatti è a 5,2. Seguono Fermo con 6,5, Pesaro 9,3, Ancona 11,6, mentre Ascoli, vedete, con questi focolai della spiaggia, schizza al 50,3 per il cluster, appunto, di San Benedetto. Però, però, la media delle marche, al momento, è di 15,7 positivi per 100.000 abitanti. Intanto, ieri, in provincia di Pesaro, 0 contagi e 0 morti, e speriamo così. Ora, 15,7 in tutta la regione Marche, sapete che per progressare in zona gialla bisogna arrivare a 50, quindi, insomma, la strada ancora, insomma, abbastanza lunga. Però, gli aumenti con questa variante delta ci sono, e questo è innegabile. Intanto, la pagina di Fano, il palio delle contrade, si torna a parlare di eventi, di manifestazioni, il palio che torna a casa, nessuna sfida, ma grande spettacolo, ricco cartellone a cura della Pandolfaccia, in pieno centro storico, appuntamento venerdì e sabato, già questo venerdì, 16 luglio, alle 21.15, alla Corte Malatestiana, con questo evento organizzato insieme a impronte femminili, dal titolo Concerto Segreto delle Dame, a cui il gruppo storico, appunto, della Pandolfaccia, parteciperà. Ed eccolo qua, l'articolo che si riferisce a questo Concerto Segreto delle Dame che riapre la Corte a Fano, un'operazione sperimentale con la sovrintendenza per impronte femminili. La pagina di Fano, invece, del Carlino, apre con la cronaca. L'ex violento si presenta alla porta, lei si barrica, arriva la polizia, è stato arrestato un 47enne di Cucurano di Fano che aveva già avuto un divieto di avvicinamento di almeno 200 metri e in passato anche per minacce con un coltello. È stato arrestato questo 47enne di Cucurano venerdì scorso dalla polizia mentre stava insistentemente bussando alla porta dell'ex moglie perché voleva entrare e parlare. Poi c'è quest'altra notizia, sempre dalla pagina del Carlino di Fano, ruba 70 euro di prosciutti e grana, ma il giudice assolve questa donna albanese di 50 anni che in quel periodo aveva qualche problema economico. Questa donna era stata incastrata dalle telecamere dell'ex Ocean, allora ancora c'era la catena francese, oggi è Conad, l'insegna del Fano Center, ma nel supermercato quando questo fatto è accaduto invece era ancora Ocean, che tra l'altro Ocean non si è nemmeno costituito parte civile. questa donna si è giustificata che stava passando un brutto momento, qualche cosa l'ha pagato, qualcos'altro l'ha messo nella borsa, però sappiate che quando si entra in un supermercato si è visti passo dopo passo. Ci sono tante di quelle telecamere che voi non avete idea. C'è una centrale dove controllano ogni movimento e quindi è impossibile portare via cose. Però alla fine questo giudice ha ritenuto che il furto non è grave. Il PM voleva condannarla, il giudice invece ha deciso di no. Andiamo a vedere invece sulla pagina 23 del Corriere Adriatico il resoconto di un evento che Fano si tiene ben stretto e che sta crescendo, il prossimo anno festeggerà i 10 anni, passaggi festival, passaggi come il Rossini Opera Festival e l'Opera, dalla regione in arrivo 100 mila euro, il bilancio del direttore Giovanni Belfiori, del sindaco Seri e del vicepresidente Carloni. E qui ci sono tutti i numeri con anche quello che è stato speso, le persone, insomma si fa il bilancio di questa iniziativa. Poi Gran Galà dell'Olio extravergine, ecco i vincitori sono due aziende di Benevento e dell'Istria nelle rispettive categorie. Anche qui è interessante perché Fano si è ritagliata un evento importante dal punto di vista dell'olio. Perché? Perché c'è questa scuola di assaggio olea a cui partecipano produttori frantoiani. Sono arrivati da tutta Italia e anche dal bacino del Mediterraneo questi campioni di olio che poi sono stati assaggiati dagli esperti e i vincitori appunto sono due aziende, una di Benevento e una dell'Istria. Claudio Gabellini, è la tentazione della politica. Qui siamo invece sulla pagina di Fano del resto del Carlino. Anna Marchetti ha intervistato l'imprenditore fanese, ex patron dell'Alma, che tra l'altro da poco ha acquistato anche TVRS ed è dato come possibile sfidante. Bello essere, dice lui, protagonisti della propria città. E a proposito dell'acquisto del canale televisivo TVRS, la domanda è come mai questa scelta? La risposta di Gabellini è stata è un'opportunità tecnologica, si sta passando al 5G e le web TV saranno interessate da tecnologie molto sofisticate e fondamentali nei prossimi anni. Vediamo quello che succede con SkyQ, che sta passando dal satellite a Internet. E poi, a proposito del Fano Calcio, dice lei che è stato presidente per tanti anni, dice il calcio è un mondo particolare e complesso, non sono aggiornato sulla situazione societaria. e quindi il capitolo è assolutamente chiuso. Ma la domanda interessante che ha avuto questa risposta è la TV diventerà strumento per le battaglie cittadine? Dice non è questo lo scopo del mio investimento, anche se serve una pluralità di informazione. Sapete che Gabellini ha una villa interessata dal passaggio, almeno finché le cose non dovessero cambiare, di una strada che collega una parte della città alla Statale 16. E insieme ad altri cittadini si sono battuti per cercare di far cambiare idea al Sindaco, alla Giunta e quindi spostare questo tracciato che passa vicino alla casa appunto di Gabellini affinché si preservi anche la bellezza naturale di quel luogo. Certamente incantato perché al momento è completamente immerso nel verde. E molti ci vedono nell'acquisto di questa televisione, almeno parlando, ci vedono l'interesse a far sì che, insomma a far questa battaglia per poter far cambiare idea appunto alla Giunta Comunale. però poi dice che per quanto riguarda la possibile sua candidatura a Sindaco, dice che se mi proponessero di candidarmi, dice lui essere protagonisti nella propria città è sempre bello, ma gli impegni sono tanti. Sulla questione invece di Aset e Marche e Multiservizi non c'è nessun accordo, allora fanno lasci liberi i sindaci, dopo la lettera dei nove comuni soci, irrompe il Presidente della Provincia, Paolini. La cronaca ci porta invece a Porto Potenza Picena, si schianta con la sua moto contro un'auto inutile volo a torrette, muore a 23 anni, la vittima è Luca Corradini di Potenza Picena, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Un'auto in veste invece un cinghiale a Cesano di Senigallia, il giovane alla guida ferito dall'airbag, illesi gli altri tre ragazzi di Corinaldo che viaggiavano con lui, a maggio stessa sorte per un centauro. La guerra degli ombrelloni, ormai non bastano più, dicevamo da Pesaro, scontro aperto tra albergatori e bagnini con l'erosione e il distanziamento ne mancano circa 2000. Il circolo vizioso aumentano i turisti negli hotel, ma le spiagge non sono in grado di accoglierli. La protezione civile di Urbino non si ferma, confermata la nuova sede del Alsasso. La traghettatrice Mandolini dice coordinatore e vice sono rimasti nel gruppo, non se ne sono andati. Michelli, la sola ansia è quella di voler svolgere il lavoro in modo sereno e tranquillo. Sull'elisuperficie, sempre da Urbino, per il volo notturno degli elicotteri, c'è questa elisuperficie a Sasso Corvaro, la rete REM si amplia dunque, con l'attivazione della sede la prossima settimana. Mentre, restando sempre a Durbino, schianto e tamponamento a catena sulla bretella, queste sono le fotografie, otto auto coinvolte, dieci persone ferite e contuse, una strada ad unica corsia che si dimostra essere sempre un pericolo costante. Dalla Valmetauro, invece, il consigliere Chiarabilli, da Fossombrone, chiede interventi del Comune perché è stato danneggiato dalla pandemia, servono aiuti per le attività, ancora più alla luce del disavanzo di amministrazione che ammonta ora ben 4 milioni di euro. Chiarabilli ha criticato il sindaco Bonci per non essere riuscito a spendere questi 4 milioni di euro. E poi, ancora, vediamo se c'è un'altra pagina, sì, questa volta dalla Valcesano, da Marotta, tutti in carrozza, torna il trennino dei Ricordi, il servizio romantico per tutta la stagione sul lungomare, attivo anche il taxi. Sotto, Ruzzola, formaggio al centro, in arrivo 120 giocatori, presentato il 44esimo campionato nazionale a Mondolfo, si disputa in questo fine settimana. E infine, da Vallefoglia, da Tavuglia, l'Allegria di Morandi e Giovanotti, trasformano Casa Rossi in un set, la casa è quella di Valentino Rossi, lanciato ieri il video della nuova hit dei due big della musica girato alla Ranch, e Vale fa anche la sua comparsa. Lorenzo dice, Valentino e Gianni sono figli della stessa Italia, quella bella che non molla. E con questo noi ci fermiamo e ci salutiamo qui. Grazie per aver seguito Occhio ai Giornali, questa sera alle 20.30 torna l'informazione su Fano TV con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.